Procedere rimuovendo delicatamente la superficie lucida della laccatura con una lima da 180 grit. La fase di rimozione venir è totalmente sicura e rispetta le unghie naturali. Agitare la soluzione prima dell'uso. Applicare su ogni unghia un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di Conditioning Sock-Off Solution. Avvolgere un ilito con un foglietto di alluminio pretagliato mantenendo la parte lucida verso l'interno. Ripiegare avendo cura di non premere sul batuffolo per non far fuoriuscire la soluzione. Venir non contiene smalto e la sua soluzione solvente Conditioning Sock-Off Solution è arricchita da una parte di olio emolliente che tratta le cuticole ed idrata l'unghia mentre rimuove la laccatura. Sigillate e lasciate in posa per 10 minuti. Trascorso il tempo di posa verificate il risultato. Togliere i batuffoli e foglie di alluminio. La laccatura si solleva da sola se applicata in maniera molto sottile. Utilizzare per la rimozione l'apposito strumento fornito all'interno del kit Venir. Può rendersi necessario una leggera limatura per eliminare gli ultimi residui di laccatura nel caso sia stato applicato troppo prodotto. Grazie.